Sono due gare importantissime per noi come tutte del resto. Siamo coscienti che domenica scorsa con Pistoia noi abbiamo fatto un passettino indietro rispetto a quello che è il nostro modo di stare in campo. Sicuramente la confusione tecnica, tra virgolette, che abbiamo avuto nelle ultime due settimane non ha aiutato. Abbiamo avuto un assetto a Capodorlando diametralmente opposto a quello avuto con Pistoia. E quindi è difficile mettere in pratica delle idee in questo tipo di situazione. Fortunatamente il Presidente ha voluto fare l'ennesimo sforzo, ci ha dato un lungo che ci permette di avere una rotazione abbastanza ordinaria e normale nei lunghi. Facendo i conti abbiamo un esterno in meno. Bene, l'abbiamo detto, con voi l'ho detto, nello spogliatore non lo diciamo mai. Noi non ci pensiamo a queste cose qui. Non l'abbiamo mai detto, la coperta è un po' corta negli esterni. Stiamo trovando il modo con Remo e con Baio di tirarla un po' dove possiamo tirarla. Quindi stiamo cercando di stare insieme in campo e non è così banale. Uro Slocar e Dario Ante, e lo faremo. Stiamo riciclando dopo tanti anni che giocava solo da 4, Bobby Jones da 3, e lo faremo. È ovvio che ci vuole un pochino di tempo. E dire che a marzo siamo a lavoro in corso è veramente ridicolo. Ma sapete quello che abbiamo passato. Diciamo che a Milano è più probabile vedere due lunghi insieme. Poi credo che saremo costretti, fra virgolette, a provare anche Jones da 3. Sanders a Milano fino ad adesso ha giocato solo da 4 sostanzialmente, quindi mai da 3. Però è ovvio che con la fisicità che a Milano, se noi riusciamo ad alzare un pochino il nostro quintetto, senza perdere in velocità, se no ti doppiano, potrebbe essere una buona mossa. Ma tanto saremo costretti a farlo, perché la nostra rotazione è quella e dobbiamo farlo. Contro Cantù invece? Contro Cantù dovremo di nuovo cambiare un pochino il modo di giocare, perché Cantù ha quei due giganteschi lunghi che partono da 4 e da 5. Il pivot è gigantesco. Già John Jones è un grande stoppatore e anche lì è impensabile, in maniera diciamo ordinaria, di andare a tirare da sotto, di fare dei giochi per dare la palla dentro, perché noi quella stazia lì non ce l'abbiamo. Troveremo il modo di aggirarli.